Buongiorno, il Gatto Grasso. Buongiorno, mi chiamo Giada Giovanna Genini, la famosa critica di cibo. Vorrei fare una prenotazione. Una prenotazione? Sì. Per quando? Per stasera alle sette e mezza. Si pronta? Sì, sì, sì. Arriva Giada Giovanna Genini, arriva stasera. Forza? Giada Giovanna Genini, arriva stasera. No, no, no. Madonna mia, siamo di fretta. Sì, signora. Buonasera, ho una prenotazione. Mi chiamo Giada Giovanna Genini. Sì, seguitemi. Posso avere la tua migliore bottiglia di vino? Sì. Permette di adenare? Sì, come antipasto prendo la bruschetta e come primo piatto spaghetti al sugo di pomodoro. Questa è un altro? Il polo alificato, grazie. Sì. 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 Sì, sì... Grazie a tutti